Ciao, stamani sono andato a fare una girata sul sentiero dei Tabernacoli, un sentiero sopra Migliana, sopra Prato per chi non conosce la zona, sentiero abbastanza frequentato, bellino, e ho la fortuna di averlo proprio a due passi da casa, quindi vado spesso la mattina a farci una passeggiata, e visto che ero qui non è una giornata straordinaria dal punto di vista fotografico, però ho detto voglio provare la nuova attrezzatura video che è il mio regalo di Natale, la Panasonic Mirrorless, quindi anche solo per testare l'attrezzatura nuova ho detto faccio un video, e ne approfitto per fare un cappuccino outdoor, cappuccino liofilizzato della Nestlé, sarà imbevibile mi immagino ma chi lo sa, con un set fornello alcol più tazza minimale che mi sono autocostruito, e vabbè niente, vediamo questo cappuccino com'è. questo è il kit per fare un tè o roba così semplice semplice calda, ottimo anche per fare i noodles cup, cioè i noodles pronti o yakisoba quella roba pronta, ci metti l'acqua calda, per non star a portarsi roba pesa, quest'ora non l'ho pesato ma è leggerissimo, è tutto in alluminio, una bustina con accendino, fazzoletti, due bustine di tè, una boccettina con l'alcol e il fornello alcol, tazza quella di alluminio semplice della Decathlon, fornellino autocostruito, ci sono tanti tutorial su youtube, casomai metto il link dopo, su come farlo con due lattine di birra o di tè o insomma due lattine d'alluminio, supportino e paravento, semplice semplice, ultra leggero, facciamo questo cappuccino, se no va a finire fo' tardi, fo' cominnardi, che di presto fece tardi, non so se si dice anche dalle vostre parti, ovviamente l'alcol alla luce del sole non si vede, è invisibile, praticamente invisibile, comunque fa una bella fiammellina, questo fornellino ce l'ho dal 2010, ce l'ho veramente da tant'anni, ho portato anche in escursioni di tre o quattro giorni in montagna, quando ho voglia di portarmi dietro fornello a gas o cose complicate, a volte anche il noodle cup e via o vai o vediamo che sto cappuccino a portarsi dietro il tiro un'altra tazzina e non berlo direttamente dalla tazza in cui si bolle l'acqua non si deve aspettare 4 5 minuti come ho fatto io per aspettare si raffreddi e nel frattempo la schiuma si ritira e fa questo effetto un po bruttino sulla tazza però a parte parte steose devo dire che non è il diavolo come credevo è abbastanza buono pensavo l'avessero zuccherato a bestia per fallo buono quando non è buono invece non è male grazie a tutti grazie a tutti